Un mistero le lacrime della madonnina della chiesa del santuario di Santa Maria a Monte a Nocera Inferiore. La lacrimazione pare sia avvenuta nel pomeriggio di oggi, alla presenza di una ragazza di Angri in gravi condizioni di salute. In città si è gridato subito al miracolo. A vedere le foto e le immagini sembrerebbero lacrime, ma il condizionale è d'obbligo. Nessuna prova è a sostegno di ciò che è accaduto. La curiosità è che nel 2004, sempre la stessa madonnina, abbia lacrimato. La statua è di legno, chiusa in una custodia di plexiglass. Ciò probabilmente farebbe pensare ad una trasudazione. Altro particolare è che la statua proviene da Fatima.